Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dove voglio mostrarvi una cosa che in realtà servono poche parole per te sfidere. Quando l'ho vista non ci credevo, però questo è già il secondo che trovo in città. Il primo era più vicino alla spiaggia, il secondo, cioè questo qua che è ancora più grande, ancora più immenso, più mastodontico diciamo, si trova proprio al centro della città e ora io ve lo mostro. Che cos'è? È il centro massonico di Sydney. Ora vi faccio vedere l'edificio che mi si pone proprio davanti. Allora, noi siamo proprio al centro della città e questo è il centro massonico messo in bella mostra. là c'è un bar che si chiama Love Elite. Ci troviamo proprio al centro della città e se ci spostiamo il simbolo si trova anche dall'altra parte. Eccolo lì. Ecco da qui vi do un'altra veduta. E questo è un palazzo governativo. Sono proprio vicini, guardate. guarda, io principalmente non mi stupisco manco più di tutte queste cose. Volevo solo documentare questa cosa. Volevo documentare della pubblica. Non è che volevo mostrare chissà che anche perché in Europa non ho visto, non ho visto mai cose così. Non ho visto mai. Almeno io a Napoli non ho mai visto il centro massonico così pubblico, così esposto, così di bella vista. naturalmente ormai non è niente di che quella massoneria attualmente. Però volevo soltanto mostrare questa cosa. A voi la parola, a voi i commenti. Grazie. Grazie. Grazie.